Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di cronaca e torniamo sulla vicenda della ragazzina violentata a Jesolo, la ragazzina di Trieste, secondo la cui Aguzzino sarebbe stata consenziente nel rapporto. Così ha spiegato lo stesso giovane extra comunitario accusato della violenza sessuale che è finito in carcere, intanto a Jesolo il comune decide di attivarsi come parte civile, ma sentiamo allora quali sono le novità nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Quindicenne abusata sessualmente sulla spiaggia di Piazza Mazzini, a Jesolo il comune decide di costituirsi parte civile nel processo che sarà avviato e a carico del responsabile. La decisione è stata varata dalla Giunta e riunita in seduta straordinaria per valutare appositamente la situazione. Si tratta del primo atto formale dell'amministrazione per il danno d'immagine subito dalla città e testimoniare ulteriormente la vicinanza alla ragazzina, a una minorenne di Trieste e alla sua famiglia. Sullo sfondo rimangono i sentimenti di sconcerto e rabbia che si sono scatenati tra residenti e turisti, tutti rimasti profondamente turbati nell'apprendere la notizia, ma anche sollevati dopo che a 48 ore di distanza dall'episodio gli agenti e la polizia hanno bloccato il presunto stupratore Mohamed Gay, a 25 anni di origine senegalese, volto già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati per i quali era stato indagato e che lo avevano fatto finire in una lista di circa 350 fotografie tra le quali la quindicenne lo ha riconosciuto come l'aggressore. A scanso di equivoci dal comune è stato anche specificato che la decisione di costituirsi contro l'autore della violenza rimarrà tale a prescindere dal suo luogo di provenienza. Troppo grave quanto accaduto la scorsa settimana prima di tutto per la vittima, una ragazzina che è poco più di una bambina e che dovrà convivere per chissà quanto tempo con i segni di quella notte di terrore, ma anche per la sua famiglia, alla quale il sindaco Velero Zoggia chiederà un incontro. E infine per la città che si è ritrovata catapultata nelle cronache nazionali e internazionali. Intanto il GIP di Venezia, Roberta Marchiori, dopo l'interrogatorio di garanzia, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il 25enne senegalese che ha ammesso di aver consumato un rapporto sessuale con la ragazzina, ma ha anche sostenuto che la giovane fosse consenziente, quindi di essersi allontanato dalla spiaggia per andare a prendere da bere e di aver lasciato la ragazza tranquilla, quindi di essersi poi appunto allontanato dalla spiaggia alla vista di lampeggianti e delle volanti perché aveva con sé uno spinello. La decisione di costituirsi parte civile non solo è giunta, ma è soprattutto doverosa, ha spiegato il sindaco Velero Zoggia. Di fronte al riprovevole episodio che ha macchiato la nostra città, intendiamo rispondere con forza. Dietro a questo provvedimento non c'è solo l'amministrazione, il comune, ma tutti i cittadini esolani che sono stati colpiti dalla notizia di questa vicenda. Desideriamo sottolineare anche con questo atto la nostra vicinanza alla giovane e alla sua famiglia e ribadire ancora una volta il massimo impegno dell'amministrazione, della polizia locale, di tutte le forze dell'ordine per garantire ogni giorno la sicurezza su tutto il territorio. Su questa linea siamo determinati, per il momento rimane prematuro quantificare qualsiasi cifra e un eventuale risarcimento. Lo decideranno i nostri avvocati durante l'eventuale processo, aggiunge il primo cittadino assieme alla giunta, decideremo poi come impiegare l'eventuale somma. È ovvio che il primo pensiero va alla ragazzina, ma queste sono valutazioni, dovranno essere fatte più avanti. Rimane invece confermata la volontà del sindaco di incontrare o comunque avere un colloquio con i genitori della quindicenne. Vorrei poterli incontrare, concludo esogio, o comunque avere la possibilità di un colloquio anche telefonico per manifestare la solidarietà alla vicinanza dell'intera città. È un modo anche questo per ribadire che siamo impegnati in prima linea in sicurezza e che la nostra linea è quella della tolleranza. Zero. E torniamo a parlare delle truffe ai danni degli anziani. Hanno viaggiato la notte per arrivare puntuali all'appuntamento con il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare che li costringe agli arresti domiciliari. Mario e Ciro Gallo, padre e figlio di 52 e 29 anni, hanno percorso in auto 800 chilometri che separano Secondigliano da Pordenone, ma stavolta hanno dovuto attenersi alle regole del Tribunale. Nessuna sosta, nessun contatto, nessuna telefonata agli anziani spacciandosi per falsi avvocati o carabinieri. A sostituire il loro legale c'era l'avvocato Andrea Cabibbo. L'udienza fissata per l'interrogatorio di garanzia è durata solo qualche minuto, il tempo di spiegare al giudice che non lavorano e non possiedono nulla. Per il resto si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere. Ultimata l'udienza, sono ripartiti in auto verso Secondigliano dove a loro arrivo sono stati monitorati dei carabinieri della stazione di competenza a cui sono delegati anche i controlli sul rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare. Ai due si contestano 11 truffe con la tecnica del falso incidente stradale. Il vinto avvocato che telefona a un anziano gli spiega che il figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale, che bisogna subito pagare una cauzione per evitare guai giudiziari e che un maresciallo o comunque un ispettore di polizia sarebbe passato a ritirare il denaro. Il telefonista è rimasto ignoto, Ciro Gallo, stando all'indagine dei carabinieri di Portogruaro, era invece il falso carabiniere e il padre gli faceva da autista. Andiamo a Monfalcone, adesso cambiamo decisamente pagina, arrivano nuovi fondi per la sicurezza sul lavoro, una scelta voluta dalla stessa regione, ma sentiamo il servizio. Assessore, oggi cambia un po' la modifica per utilizzare i fondi FAMI e nel Comune di Monfalcone, un'azienda importantissima, progetti per la possibilità di formazione sul lavoro. Sì, oggi abbiamo preso un'ulteriore svolta rispetto al passato per quanto riguarda i progetti sull'immigrazione. Abbiamo utilizzato un bando FAMI, che è un bando nazionale del Ministero dell'Interno, un bando che mette dei fondi a disposizione che in passato erano stati utilizzati per l'accoglienza così stata diffusa e quindi per dare varie occupazioni ai richiedenti asilo. Oggi li utilizziamo per un progetto innovativo. In particolar modo andremo a concentrarci sul Comune di Monfalcone, dove con la presenza dei cantieri c'è un alto numero di dipendenti stranieri e utilizzeremo questo fondo per fare dei corsi sulla sicurezza sul lavoro. La prospettiva però è ancora un'altra, è quella di poter unire a questi fondi altri fondi regionali in modo da non avere nessun vincolo per quanto riguarda la presenza di stranieri. Questo vorrà dire che utilizzeremo dei bandi riservati agli immigrati per poter anche fare prevenzione e sicurezza sul lavoro per i dipendenti italiani presenti nello stabilimento. In questo progetto abbiamo inserito dentro le quattro prefetture, i CPI, l'ufficio scolastico regionale e il Comune di Monfalcone appunto. L'obiettivo è quello, in un colpo solo, di togliere fondi all'accoglienza diffusa e destinarli invece a progetti che salvaguardino indistintamente a prescindere dalla nazionalità i lavoratori da possibili incidenti sul posto di lavoro. Ancora cronaca, andiamo a Sappada, momenti di paura nella pasticceria di Sappada per una bimba. La piccola, 17 mesi di una coppia di Udine, in vacanza nella località di Montagna, ha avuto una crisi respiratoria mentre con la zia era da Sartor vicino alla chiesa di Borgo. Improvvisamente ha perso conoscenza e per qualche secondo ha smesso di respirare provocando anche un grande spavento anche negli altri avventori del locale. Sono stati poi i vigili del fuoco arrivati da Santo Stefano di Cadore a prestare le prime cure alla bambina, a far tornare il sorriso sui volti di tutti quanti e quando ha cominciato a piangere, segno insomma che era viva e la fase più delicata era passata. Portata alla piazzola, la piccola è stata consegnata all'elicottero del 118 per il trasferimento all'ospedale San Martino di Belluno dove è stata raggiunta poi dai genitori. Parliamo di fondi europei, la regione ha deciso di semplificare il percorso per accedervi e riuscire a dare maggiori opportunità in regione. Sentite. Assessore, con una delibera la giunta permette la possibilità di semplificare e ampliare anche la platea per l'uso dei fondi europei. Sì, esatto. Abbiamo effettuato una ricognizione di quelli che erano dei vincoli che oggettivamente potevano essere superati, abbiamo concordato anche con la Commissione in una modifica del PSR, la possibilità di intervento andando a razionalizzare dei vulnus oggettivamente di difficile comprensione, quindi consentendo ad esempio l'utilizzo dei conti cointestati, oppure l'abbinamento delle misure del PSR e con le misure del fondo di rotazione. Questo consentirà di avere un'incentivazione e anche un'accumulabilità che era richiesta da moltissimi degli operatori e oggi con questo andiamo a dare effettiva attuazione ad un percorso che ci ha impegnato anche in un confronto con la Commissione che non è sempre cosa semplice. Ha perso la vita, ha soli 45 anni a causa di un malore. Si tratta di Manolo Beltrame, residente a Grions del Torre, una frazione di Povoletto. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato ieri mattina, ma secondo gli accertamenti il decesso sarebbe potuto avvenire addirittura una decina di giorni fa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i carabinieri di Remanzacco, ma non ci sarebbero dubbi sulla origine del decesso appunto per un malore. Adesso parliamo di regione, di agenzie regionali che hanno siglato un accordo per trovare nuove offerte di lavoro appunto per i corregionali. Ma sentiamo cosa si sono proposti nel servizio. Assessore, la Regione ha pronto la bozza di protocollo d'intesa tra appunto l'amministrazione regionale e le agenzie interinali. Una collaborazione inedita tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori privati. Di che cosa si tratta? Su questo tema la Regione si è impegnata dall'inizio di questo mandato per ampliare i servizi dati a disposizione dei cittadini di questa Regione ed è inedita perché in questa Regione non c'è mai stato alcun tipo di collaborazione tra i centri per l'impiego gestiti dall'amministrazione regionale e le agenzie per il lavoro interinale. Abbiamo predisposto una bozza che ci auguriamo e che abbiamo ovviamente condiviso con le agenzie per il lavoro interinale e quindi ci auguriamo venga sottoscritta dal maggior numero di soggetti possibili per collaborare in tema di formazione ed in crocio domanda offerta. È il primo passo di un lungo percorso che l'amministrazione regionale intende portare avanti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione che nei prossimi mesi vedrà coinvolti ad esempio i consulenti del lavoro e i patronati. Allora ci fermiamo qui adesso con l'edizione della Friuli Venezia Giulia del nostro telegiornale e come sempre ci ritroveremo con altre news ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24 oppure sul nostro canale YouTube dove trovate appunto anche altri servizi e i nostri live. Grazie a tutti, buon proseguimento, risentirci con le altre notizie. Alla prossima!